Buongiorno, ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con la carta stampata. Sfoglieremo sempre le principali notizie che sono presenti nei quotidiani, il resto del Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico. Prima però il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi sabato 14 marzo, Santa Matilde e Regina, il sole è sorto alle 6.22 e tramonterà alle 18.13. E allora guardiamo le previsioni del tempo, partiamo dalla nostra stazione meteo, vedete la temperatura è di 2,7 gradi, 2,7 con umidità dell'84% e questa è la situazione al suolo. Vediamo la webcam, che cosa ci dice? Ecco, vedete il cielo è un po' sul grigio, questa è la situazione che viene inquadrata dalla webcam che si trova sopra la nostra emittente. Invece andiamo a vedere quello che ci dicono gli amici della protezione civile, vediamo che cosa ci riserva il weekend. Sabato appunto avremo oggi un cielo sereno, aumento delle velature in serata, non ci sono però precipitazioni, il mare è poco mosso. Vediamo domenica, c'è una intensificazione però della nuvolosità e compaiono anche le piogge, nuvi stratificate e precipitazione nella seconda parte della giornata con deboli piogge diffuse, anche a carattere di rovescio però nella serata sui settori interni, quindi l'interno è sempre un po' più preso di mira dal maltempo, temperature le minime sono in aumento. Vediamo l'inizio della settimana come si presenta, lunedì è 16, il cielo sarà nuvoloso con attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio, le precipitazioni sono deboli, diffuse e più intense nei settori settentrionali, quindi la nostra provincia sarà interessata maggiormente dalle precipitazioni lunedì. Allora, visto il tempo vediamo che cosa ci dicono i giornali, partiamo subito dal resto del Carlino con una notizia che è rimbalzata anche in altri quotidiani e vediamo il naso diventato supersimo per sconfiggere ogni bullismo, storie di vita e il resto del Carlino punta su questa esperienza di questo ragazzo, Simone Gabrielli, 34 anni, più forte della malattia e dei pregiudizi. Nano era il nomignolo col quale in maniera sbeffeggiante veniva indicato da coloro che gli riservavano angherie di ogni tipo, lui si è riscattato sia dal punto di vista della società che anche del lavoro, è un musicista affermatissimo, fa un genere l'artcore punk, molto amato da tantissimi giovani, è seguitissimo anche sul web, chiaramente è un idolo per questi ragazzi e anche un esempio. Allora lui vuole portare la sua esperienza nelle scuole e incontrerà i giovani proprio per combattere questo pregiudizio e questo fenomeno, quello del bullismo e del cyberbullismo che sta diventando a livelli di piaga possiamo dire. Andiamo a vedere ancora in primo piano nelle pagine del resto del Carlino, siamo a parlare di turismo e polemiche naturalmente sulle scelte che vengono fatte, nasce così un'alleanza per il cerca turisti, Varotti punta tutto su Destination Mark, una rete con tanti soggetti per implementare l'offerta turistica, vedete la foto nell'incontro, è necessario, dice Varotti, fare squadra perché la misura è colma, manca una regia a livello regionale e provinciale del settore. Sarà Destination Mark un struttura snella, un comitato tecnico che sarà incaricato di costruire proposte innovative quindi per sviluppare turismo che è ormai indiscutibilmente e indissolubilmente un volano economico per una provincia che ha subito dal punto di vista occupazionale e anche economico gravi ripercussioni per la crisi, però il turismo potrebbe sicuramente rappresentare un qualcosa che colma il gap. Rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino, sempre Pesaro in primo piano, vengono trattati altri temi, uno dei quali è la scuola e l'università perché ci sono problemi per Pesaro Studi, sul sentiero di guerra gli studenti che non vogliono mollare perché si fa il conto purtroppo sulle secche di bilancio della Carlo Bo e gli studenti in una molto animata assemblea tesa hanno detto chiaramente che non ci stanno a essere presi in giro perché insomma hanno iniziato a studiare e inserirsi nel tessuto sociale della città di Pesaro grazie a delle prerogative ben precise. Ora in corso d'opera gli si cambiano le carte in tavola e loro non ci stanno, però la spending review vuole il suo prezzo e quindi questo dovrebbe essere il risvolto, però tira e molla, l'università dovrebbe andare avanti ma i problemi sono i fondi, troppa incertezza e questa è l'assemblea dei ragazzi e qui sono tracciate nel Carlino anche un po' tutte le tappe della vicenda. Ma non è soltanto l'università ad avere problemi ed essere un fronte caldo dopo l'istituto tecnico Bramante, ieri si è presentato dal presidente della provincia Tagliolini anche il liceo scientifico Marconi e molto polemico sulla questione della settimana corta, appunto dice è un errore insistere sulla settimana corta, la maggioranza dei docenti del Marconi dice no, altra lettera appunto al presidente Tagliolini dove viene chiaramente detto che non c'è vantaggio didattico, anzi tutt'altro. Sempre alle pagine del Carlino però andiamo a vedere a Fano il pincio che è stato sgombrato da Aset e vigili urbani delle cose, delle masserizie che i due clochard avevano allocato in quella zona compresa anche una tenda e allora pincio contro il degrado, blitz di Municipale e Aset cacciati i barboni adottati, adottati perché c'erano sia i clienti e anche i titolari del Coal sotto Palazzo Gabuccini che li aveva un po' così adottati, li aveva fornito appunto quelle che erano le loro masserizie, anche la tenda era stata donata da un cliente del supermercato e qui insomma nelle righe dell'articolo di Tiziana Petrelli insomma il titolare dice gli avevamo data noi, noi li supportiamo un po' e insomma ci dispiace di questa evoluzione in negativo, interviene il sindaco però che dice gli rideremo la roba ma i clienti del Coal ormai se li erano presi appunto a cuore, parla anche l'assessore, loro due stanno al gelo per scelta dice l'assessore ai servizi sociali perché gli hanno proposto più volte soluzioni alternative tutte quante da loro scartate. Altra questione trattata sulle pagine del resto del Carlino dopo il debutto dell'Elisir d'Amore qualcuno si è riversato nelle strade del centro trovando un po' tutto chiuso e questo ha scatenato un po' anche qualche malumore insomma dove si può andare e dopo le 11 di sera centro sembra un centro bombardato non c'è più nessuno quasi tutti i locali chiusi fanno una città in ospitale gli esercenti dicono beh stiamo aperti se c'è un'esigenza però ci deve essere anche la gente in giro e quindi siamo aperti solo se ne vale la pena perché come dice Antonella Cappadonna della Vinoteca proprio lì a pochi passi dal teatro dice per noi stare con la sarcinia scalzata è già un costo quindi insomma se poi devo servire anche un tè caldo vediamo cioè sicuramente per stare aperti ci vuole un tornaconto in termini economici se non rappresenta soltanto un costo e qui nell'articolo trovate anche le considerazioni sia dei turisti che anche quelle dei commercianti degli esercenti altra pagina chiudiamo quella dedicata a Fano la questione dedicata sul insomma il dragaggio del porto anche questo è un argomento estremamente impegnativo sotto tutti i punti di vista il sindaco se in regione bussa a denari perché dice serve un riequilibrio dei fondi comuni i conti sono da rifare perché la darsena dovrebbe aver bisogno di 5-6 milioni però sono da dividere con porto San Giorgio e quindi insomma sono da rivedere un po' i conti. Cambiamo testata andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico formati 24 studenti per la riqualificazione ecosostenibile delle case qui si parla di edilizia edilizia ecosostenibile su edifici già in piedi e quindi riqualificare vecchie strutture e 24 studenti sono stati formati appunto dalla provincia oltre 100 erano i candidati per questo corso di formazione che sicuramente darà la possibilità a questi giovani di inserirsi nel mondo del lavoro in maniera più qualificata. Fano Nord chiude, chiede aiuto al Casellino Pesarese parliamo delle infrastrutture legate alla A14 per sbloccare la seconda uscita dell'A14 appunto Seri ne valorizza la funzionalità con Santa Veneranda quindi si cerca una coalizione per per questa possibilità e non perdersi i soldi messi a disposizione alla Notte Rosa a promozione di Carnevale. È stato raccolto l'appello dell'assessore di Rimini di estendere anche a Fano e Pesaro la Notte Rosa però insomma in tema fanese perché Carnevale, Jez e Brodetto saranno i temi che insomma vorranno essere presenti in questa versione pesarese e fanese della Notte Rosa che così insomma tanto piace ai ragazzi e che ha riscosso sempre grande successo a queste iniziative vanno comunque qualificate e convogliate per non far sì che diventi un baccanale generale anche con problemi di sicurezza. A Fano, nelle pagine di Fano si parla di un pioniere, un pioniere del biologico, negli anni 70 Giro Lomoni fu veramente un antesignano di quello che è stato tutto il movimento biologico in Italia. La terra come una preghiera, a Palazzo San Macuto si presenta il libro sulla storia di Giro Lomoni, vedete nella foto oltre a Gino Giro Lomoni scomparso nel 2012 anche colui che ne ha preso un po' l'eredità il figlio Giovanni. La rivoluzione del biologico ancora quotidiani, parliamo e vediamo cosa ci dice il messaggero, il messaggero in edizione pesarese anche qui la questione peserostudi, paure e proteste. Gli studenti chiedono un incontro con il sindaco a questo punto è il rettore, vogliamo chiarezza, vogliamo sapere appunto di che cosa dobbiamo morire, se dobbiamo morire ma lì ci va avanti, il decentramento è ormai superato, più saggio tornare a Urbino, questo è il suo pensiero. E poi, crollata la quercia monumentale, il maltempo fa i suoi danni e la notte rosa spacca il mondo del turismo. appunto Varotti di Confcommercio dice non funziona ma a Fano intanto crescono le adesioni. Il meteo del messaggero ci dice ancora bel tempo ma nuvoloni in arrivo, avete visto che insomma dalla prossima settimana ci saranno problemi con il tempo. Guardiamo appunto la vicenda dell'albero secolare andato giù, è purtroppo il risvolto negativo del maltempo, però per prevenire queste cadute, questi abbattimenti serve più manutenzione. La forestale striglia le amministrazioni comunali, occorrono adeguati interventi, ci sono i soldi regionali, centinaia le piante crollate e cade la quercia del tre, ultrasecolare e di oltre 4 metri di diametro e altra 24 metri. Quindi insomma problemi anche noi qui a Fano insomma con il vento di qualche mese fa abbiamo avuto seri danni con pini secolari, anche qui insomma la manutenzione è sempre un po' presa di miro in questi casi perché se si fanno i tagli a dovere poi le piante resistono anche al vento. Ultima pagina quella del messaggero di Fano, fusione Aset, Mascherin, l'assessore Mascherin chiede di accelerare, il primo cittadino ha parlato di qualche mese in più, fanesi del Partito Democratico e l'assessore appunto Mascherin vogliono un iter più rapido e preciso. Centropagina alla Notte Rosa ma alla Fanese come abbiamo visto con l'offerta insomma romagnola salgono i consensi e le adesioni però dobbiamo per spiccare quindi per venire fuori in maniera evidente in questa proposta turistica bisogna caratterizzarsi e ancora cinque barche da varare nel porto, la questione del porto insabbiato, sono cinque le barche da varare ma insomma il porto e le secche rappresentano un ostacolo a tutto questo. Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevamo, il messaggero in edizione di Fano, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon sabato a tutti voi, la Rassegna Stampa torna lunedì mattina alle 7.30, arrivederci. Grazie 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 Grazie